Sì, 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 sì. Oh no! Hanno bloccato le strade! Reggiti! Dietro di noi! Cazzo! Tienili lontani! Cristo! Non posso passare sui lati! Reggiti! Dobbiamo abbandonare la strada! No! Ce ne sono altri dietro di noi! Ascolta! C'è una cassa di dinamite sul retro del furgone! Usala! Presto! Falle fuori! Sì! Così! Quattro di in orbita! Facciamoli saldare! Non è mia destra! Cazzo! Cazzo! Devo seminarli! Ma quello è un aereo! Non dirmi che hanno pure il supporto aereo! Oh merda, merda! Merda, merda! Davanti! Cazzo! Chi è il padre! Dai! Dai! Oh merda! Chi è il sinistra! È una gloria! Vai davanti! Cazzo! ma cazzo, cazzo, briocholo sicco, vantici figli di puttana vantici figli di puttana cazzo, scarpacano, scarpacano cazzo, davanti stiamo scarpacando oh no, oh no, 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 Cristo, occhio scarpacano, scarpacano, sch��로 non stai torri scarpacano, scarpacano, scarpacano murula di fumano scarpacano, scarpacano, no, scarpacano scarpacano, alla tre…" No! Lasciatemi! Non sono uno sceriffo venerale! Questo ha bisogno di un pellegrino. Portatelo al pellegrino. Lasciatemi! Figli miei, rendiamo grazie a Dio. Il giorno che ho profetizzato è giunto. Ciò che vi ho detto si è avverato. Le autorità che hanno provato a portarmi via sono nel caldo abbraccio della mia famiglia. Tranne l'amore. Ma troveremo il suo figlio di Dio. Lo tuoveremo. E alla fine di capirare il nostro furioso intento. Sono nostro padre. Siete i miei figli. Insieme. Marcelemo. Hai capito cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le strade sono chiuse. Vuol dire che c'è la tagliatrice. Vuol dire che non arrivano e non escono comunicazioni dalla valle. Ma soprattutto che siamo fottuti. Lo stupido collasso. Pensano tutti che il mondo stia per finire ora. Lo aspettavano da anni. Aspettavano che qualcuno confermasse la profezia per scatenare una guerra santa. Direi che li hai scatenati. la cosa più furba da parte mia sarebbe consegnarti. cazzo. Togliti quell'uniforme. Dobbiamo bruciarla. Lì c'è un cambio di vestiti. Cambiati. E poi torna pure da me. Forse possiamo rattoppare la situazione. Grazie. Grazie. Grazie.